Voi siete sposato? Sì, sono sposato, c'ho una figlia. Vostra moglie si chiama? Anania Ganna. Vostra figlia? Carluccio Filomeno. Avete nipoti in Maggio? Sì, nipoti è medico cardiolico a Perugia, è nata a Femminuccia e all'Aquila che è cominciata quest'anno. Una bella famiglia, complimenti. Una bella famiglia, mia figlia fa l'invermiere, lo prende soccorso a lavorare e il mio genero porta l'autobolante a laurea. Lavorano tutti e due nella sanità, vostra figlia si chiama? Carluccio Filomena. Il vostro genero? Colombo Mario. Vostra figlia si chiama? Carluccio Filomena. Il vostro genero? Colombo Mario.